La sosta nella zona a disco orario di solito prevede un lasso di tempo di pochi minuti, ma a quanto pare qualcuno deve averlo frainteso. E' quanto sta accadendo in città, su Viale Lore poco prima di Porta San Biagio, dove da alcuni giorni una Golf rossa vecchio modello risulta parcheggiata e quotidianamente multata dagli agenti della municipale. Non solo, anche i negozianti del posto si lamentano, visto che l'occupazione è permanente del parcheggio, con tempo massimo 20 minuti, anziché favorire ricambio, ora risulta un vero e proprio intralcio. E così, mentre sul parabrezza incrementano i fogli dei verbali, qualcuno si domanda come mai nessuno dei vigili pensa a contattare il proprietario, facendo tornare in ballo l'idea della mancata tolleranza della polizia municipale, che per alcuni sembra solo interessata a staccare sempre più verbali. E invece no, replica il comandante Donato Zaccheo alle polemiche giunte allo sportello dei diritti di Giovanni Dagata. Sin dal secondo giorno abbiamo provveduto a rintracciare il proprietario della vettura. Si tratta di un signore di Lequile, che al momento continua ad essere irreperibile. Contiamo comunque di risolvere la situazione nei prossimi giorni, ma nel frattempo stiamo solo applicando la legge. Se l'auto fosse stata parcheggiata sulle strisce blu, subito dopo il terzo verbale, come da prassi, sarebbe stata rimossa. Cosa che invece non può accadere per questa circostanza, che vede il mezzo in sosta in una zona a disco orario. In poche parole, conclude Zaccheo, la polizia municipale sta solo facendo il suo lavoro.